GF VIP, Manuel Bortuzzo fa una sorpresa a Lulu Selassie, non ce la facevo più senza di te. Sul finire della puntata di stasera del grande fratello VIP c'è stata la tanto agognata sorpresa a Lulu Selassie, che per il giorno di San Valentino ha avuto modo di incontrare nuovamente Manuel Bortuzzo. Proprio quest'ultimo, visibilmente emozionato, non ha potuto fare a meno di dire alla sua fidanzata di aver sentito fortemente la sua mancanza in tutto questo. Periodo di lontananza forzata, non ce la facevo più senza di te. Successivamente Manuel Bortuzzo ha anche rivelato di non vedere l'ora di poter vivere la loro storia d'amore a Telecamere Spente. Manuel Bortuzzo incoraggia Lulu Selassie a continuare questa avventura al grande fratello VIP. Vai avanti. Successivamente Manuel Bortuzzo ha incoraggiato Lulu Selassie a continuare questa avventura al GF VIP 6. Devi stare tranquilla e ci aspetta fuori una vita meravigliosa, sono qui, ti aspetto fuori. Voglio però che continui a farti questo percorso con il sorriso. Tutte le cose che ti pesano ci penso io ok? Manuel Bortuzzo, sul quale ha espresso la sua opinione Alfonso Signorini, ha poi dichiarato di essere contento di aver capito Lulu, innamorandosi così del suo mondo interiore. Lulu Selassie fa. Una richiesta ad Alfonso Signorini al GF VIP. Può stare un po' nella casa? Lulu Selassie, ha poi colto la palla al balzo per fare una richiesta ad Alfonso Signorini al grande fratello VIP. Manuel, non può stare qua un po' di tempo? Voglio dormirci insieme ancora una volta. Perché non gli avete fatto fare la quarantena come a Biagio? Manuel Bortuzzo, ha subito dichiarato che non gli è stato concesso, senza però svelare il motivo. A quel punto ha preso la parola Alfonso Signorini, promettendo alla principessa Selassie che parlerà personalmente con gli autori, cercando di convincerli a farlo entrare. Ci riuscirà?